Messi e l'eccentrico look di Capodanno, ecco Costa e a chi è ispirato. Rosario, Argentina, Lionel Messi ha salutato il 2022 e ha accolto il 2023 nella sua abitazione di Rosario. In Argentina, con la moglie Antonella Roccuzzo, i loro figli, fratelli, genitori e nipoti. Nel bel mezzo dei festeggiamenti però il look della pulce, mostrato attraverso un post su Instagram. A incuriosire i fan del neocampione del mondo che ha sfoggiato un coloratissimo completo che, ovviamente, non è passato inosservato. Messi, chi look, il prezzo dell'outfit è da urlo il 35enne campione del mondo ha indossato una maglia di seta verde con dettagli arancioni e finiture stampate. Oltre ai pantaloncini accuratamente abbinati, un campione del mondo si veste come vuole. È uno dei commenti più in voga tra i follower dell'asso del PSG. Altri utenti hanno invece optato per commenti più colorati e ironici, sembra un pigiama e si è vestito da folletto. Un completo, quello di Messi, il cui prezzo è letteralmente da capogiro, la maglia. In vendita su MiTeresa sito online di moda di lusso costa 950 euro ma è attualmente sold out. Il pantaloncino costa invece 1,183 euro e non hai nemmeno disponibile Messi. L'outfit che omaggia il Bangladesh. Molti follower su Instagram hanno visto il look di Messi come un omaggio al Bangladesh. Paese che tifa al 100% la nazionale argentina e che sulla sua bandiera è il verde utilizzato da Messi sui suoi vestiti. Virgola.